Salve, sono Massimo Burgio e vi do il benvenuto a SMXL Milan 2016. Non ancora, siamo ancora in estate, sono in Spagna, però non vedo l'ora che sia a novembre, e di essere a Milano per la conferenza più attesa di quest'anno. Tra l'altro ho anche l'onore di annunciare che sono stato nominato chairman della conferenza. Questo è un onore che condivido con Sante, un vecchio amico di tante battaglie sul mondo search, e c'è incluso il lancio di Sempo Italia qualche anno fa, e stiamo lavorando con Sante tantissimo in questi giorni per definire l'agenda, anche con il supporto di Business International e Fiera Milano, e prendendo spunto da quello che è stato l'esperienza di SMX Milano degli ultimi tre anni. Questo messaggio è un messaggio proprio dedicato a questo tema. Stiamo lavorando anche su una call for speakers, per cui invitiamo tutti coloro che hanno intenzione di presentare alcuni temi di social media marketing o search marketing alla conferenza di novembre, vi invitiamo a seguire le istruzioni del sito per presentare la vostra candidatura. Quindi ci vediamo presto, ci vediamo a novembre, e in bocca al lupo a tutti!